Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, e commentare con le tue esperienze personali, in base agli integratori date e assunti, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo, l'integratore alimentare generavita centimetri mineral. A cosa serve? Generavita centimetri mineral ha un integratore appartenente alla categoria degli integratori per il benessere delle cartilagini, delle articolazioni e delle ossa. È commercializzato in Italia dall'azienda Natural Power Vergadoro SRL. Informazioni commerciali. Titolare. Natural Power Vergadoro SRL. Concessionario. Natural Power Vergadoro SRL. Categoria di appartenenza. Integratori per il benessere delle cartilagini, delle articolazioni e delle ossa. Forma farmaceutica. Polveri orali. Confezioni. Generavita centimetri mineral 100G. Indicazioni contro l'osteoporosi. Per ossa forti ed elastiche. Contro i crampi muscolari. Favorisce l'eliminazione di acido lattico nelle fasce muscolari. Contro i problemi di insonnia. Contro lo stress. Descrizione e caratteristiche. Centimetri mineral. Ha un prodotto fondamentale per il sistema nervoso. La funzione principale del calcio è quella di agire in contemporanea al fosforo per la formazione ed il mantenimento delle ossa e dei denti. È aeroimportante inoltre perché a copyright combatte la aeroinsonnia, aiuta a regolare il battito cardiaco ed è essenziale per un sangue sano, in quanto ne controlla il processo di coagulazione e ne previene la formazione eccessiva di acidi e di alcali. Un elemento molto importante, coadiuvante del calcio per il funzionamento del sistema cardiovascolare, ha il magnesio. Il magnesio ha un minerale essenziale, responsabile di molti processi metabolici basilari, stimola l'aeroassorbimento ed il metabolismo di altri minerali quali il calcio, il fosforo e il potassio. È aero di grande aiuto durante la crescita ossea ed è necessario per un buon funzionamento dei nervi e dei muscoli, compreso quello cardiaco. Centimetri mineral non apporta nessuna controindicazione. Ha la aero unica formula che fissa il calcio nelle ossa, senza depositarlo in superficie. Non può causare nessun tipo di calcolosi. Per ottenere i benefici del mettere insieme calcio e magnesio è importante sapere che il calcio non si scioglie nel corpo e non viene assimilato, a meno che non si trovi in un acido. Deve avere una base acida per poter operare nella struttura cellulare e passare attraverso i vasi sanguigni e le pareti intestinali e questa base acida è costituita dall'aeroaceto di mele. Contro l'osteoporosi. Per ossa forti ed elastiche. Contro i crampi muscolari. Favorisce l'eliminazione di acido lattico nelle fasce muscolari. Contro i problemi di insonnia. Contro lo stress. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato.